I've been the same since I expired, doesn't mean that I plan to retire, and now I have the power to read all of you, it's entertaining! Ciao, che adesso è molto nuovo video, vogliamo fare questa e ben fondati su... su... su sita expansion! E ragazzi... Facciamo così, direttamente, continuiamo l'osso. Allora, mi prendo il cappello, ok. Oh, oh, oh sì, oh sì. No, ma qui, nel frio, no. Fantastico, ragazzi, fantastico. Ci stanno già pensando le cammelle. Oddio, come? Il pop-on-dike guida un astorale? Da quando? Da quando guida un astorale? Mamma mia, ragazzi, ci sono belle mortali, ragazzi. Ci sono belle mortali. Ok, vediamo. Dello shop. Un ventilatore. Un ventilatore come tecque. Interessante. Ok, comunque stengo l'elma, l'elma, l'emmerco. Il problema è che adesso non piangono più le ciammelle. Che cazzo, mi piacevano. Le ciammelle a fraccine. Piavano. Oh, ora va bene, ora. Oh, sì. La ciammelle. Ok, la ciammelle. Ciao! Mamma mia, abbiamo confusato la ciammelle. E l'essere dice... E l'essere? Sì, sì. E l'esserebbe si soffert la scuola. Oh, mio Dio, la scuola è mafolli. Aia, 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 aia. Ah, no. Ok. Ah! Sto facendo muore. E l'esserebbe, no. Sono morto. E sono morto. Ok. Ok. Ok, ragazzi. Aia. L'esserebbe. Sì! Sì, ragazzi. Ok. È un altro livello completato. Ragazzi. Mi piace che mi punga. Sì, ragazzi. Ho mai completato. Un altro livello. E qua ragazzi abbiamo i peluccio. Che è un monzano. Io vorrei i peluccio spring cup. Quello che c'era nel cimitero. O a che posso comprare qualcosa. Vorrei prendere questo. L'Amyunit. Magari. L'Amyunit servirà qualcosa. Forse. Eccolo. La chiave. Ok. Le lo dico. Il coccomello. Fa più male nel proietto di scherzi. Ma beh. È migliore però come inutile. Quindi. Un'altra cosa inutile. Ok. Magari un pezzo utile. Grazie. Tipo lui. Le sue macros. Le sue macros. Oh. Le sue pericolo. Sono macros. Mamma mia. Sì. Che ha questo. Questo silenzio. Una. Una caccia. Una caccia. Una caccia di vento. Che mi vuole uccidere. Ma che io ucciso lui. Oh. No. Ma mi vuoi pigliare il culo? Sto giusto a diventare un Ted Mario? Ma la prima non puoi ne hai il culo. Venga bro. Io come munizioni. Sono le noti di cocco. Come il cocco. Come munizioni. Ok. Uh. Mamma mia. Nightmare. Pingo. L'altro nightmare. Disegnato nel giusto. Che figata. Sono fai freddi. No. Me no. Mi ha già. Sono. Sono. Sono morto. Ovvio. Dovrei fare quella foto. Ovvio no? Quindi. Quindi. Allora. Io spero. Questo video ti è piaciuto. E ragazzi. Ti vediamo al prossimo episodio. E ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Eri. Grazie a tutti.